Le denunce arrivate in caserma, Termoli sono state diverse, anche di giovani e i carabinieri si sono attivati e attraverso una serrata incisiva e mirata attività di indagine sono riusciti a scoprire e denunciare per truffo un 43enne della provincia di Bari. Utilizzando in maniera illecita il brand Fiat, l'uomo aveva pubblicato su un noto sito internet un'inserzione in cui venivano prospettate prossime assunzioni allo stabilimento termolese. Chiedeva di pagare in via preliminare 81 euro da versare su una post pay per le selezioni. I denuncianti una volta presentatisi presso la sede Fiat hanno scoperto di essere stati raggirati tutto falso. Una vicenda di cui abbiamo parlato anche a Telemolise, riportando la denuncia di un disoccupato di San Martino in Pensilis, Pasquale Aurelio, il quale ci aveva contattato e raccontato di aver mandato il curriculum e di essere stato ricontattato il giorno seguente con una e-mail da un'agenzia per comunicargli addirittura di aver passato la selezione di doversi recare in azienda per l'esame medico per poter poi iniziare a lavorare ma anche di versare gli 81 euro su una carta post pay per pagare ticket e marca da bollo per effettuare la visita. Chiamando in azienda però ha scoperto che tutto era una truffa. I militari della stazione, carabinieri di Termoli, dopo aver raccolto la denuncia delle vittime e con tutti gli elementi in mano, grazie anche alla preziosa collaborazione della dirigenza Fiat, sono riusciti a identificare il truffatore denunciandolo.